Se non si danno servizi, non si possono certo chiedere rette. Confermo quindi che la scelta dell'amministrazione è la moratoria totale di ogni costo a carico delle famiglie, quindi zaroneri per il tempo in cui non hanno potuto usufruire dei servizi. Queste le parole del vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, che annuncia adesso un'altra moratoria Covid dato lo stop delle attività. Le scuole vanno riaperte il più rapidamente possibile, ma soprattutto non vanno richiuse. Per questo servono vaccinazioni e risposte sanitarie straordinarie, evitando la saturazione degli ospedali. Il comune, appena sarà possibile, metterà tutti gli spazi scolastici, le oltre 300 aule e gli esterni a disposizione anche oltre l'orario canonico. I parchi cittadini saranno aperti per i ragazzi, le famiglie, le associazioni e i docenti per lezioni all'aperto, per momenti ricreativi e per dare contesti sicuri alla socialità. Quindi, aggiunge il vice sindaco, l'assessore Alessandro Casi sta lavorando a pieno ritmo per rendere ogni aula e ogni luogo pubblico super sicuro e le scuole potranno essere fruibili per tutto il periodo estivo. Arezzo è dunque pronta a trasformarsi in una città aperta, ma non è disponibile a esserlo se non sarà a parimenti protetta e sicura. Il virus ancora galoppa forte ad Arezzo, in Toscana e in Italia. Adesso, conclude, è il momento della cura e la cura per ogni scuola non è provare a riaprire, ma riaprire per sempre, prima di tutto somministrando vaccini agli eretini.